oggi torniamo a parlare di defi perché manca sempre meno al lancio del loro token e perché c'è davvero tanta carne al fuoco dentro a questo ecosistema ciao caro amico investitore come va bentornato sul mio canale io sono andrea oggi andiamo proprio a parlare di defi in quanto sta costruendo veramente qualcosa di pazzesco per cui vogliono ambire a diventare non solo leader del settore della defi ma letteralmente la defi come anche suggerisce il nome del loro sito partiamo ovviamente subito dicendo che sono in fase di prevendita del loro token e se volete acquistare ne troverete in descrizione il link diretto così evitate scam che stanno già girando su internet ma prima di decidere di fare il tuo acquisto lasciami spiegare il valore che ha defi defi è un team di 50 persone che da diversi anni ben 4 anni sta sviluppando questo prodotto e ha lanciato tantissime soluzioni veramente innovative per farvi qualche esempio non possiamo non citare il primo antivirus per cripto valute o il più grande profilo social per cripto valute che conta già oltre 3 milioni di utenti registrati inoltre offrono una dashboard di altissimo livello per il tracciamento del proprio portafoglio e tanto altro ancora de.fi 2.0 è poi orgogliosa di essere uno dei leader del settore della defi e di offrire un ecosistema completo di prodotti e servizi per i suoi utenti l'azienda vuole guidare una rivoluzione nel mondo della finanza decentralizzata e per farlo ha bisogno anche di essere supportata da importanti colossi del settore e su questo aspetto possiamo dire che è molto ben dotata dal momento che può godere del supporto di dirigenti di coinbase e anche di binance ma anche di importanti exchange di cripto valute quali okx wobi bit smart fra gli altri questo non può far pensare che presto o tardi potrà arrivare anche un listing del token in una di queste piattaforme e quando verrà listato già potremmo vedere un innalzamento del prezzo del loro token essendo adesso in prevendita a un prezzo più vantaggioso ma oltre a queste change se continuiamo a parlare di coloro che credono e supportano defi 2.0 come possiamo vedere sul loro sito ufficiale troviamo una bella gamma di società di venture capital leader ed è importante investitori defi di tutto il mondo ma non è solo questo infatti l'azienda defi è supportata da alcuni dei migliori angel investitor del mondo il che è senza dubbio un buon segnale del suo potenziale della sua capacità di innovare inoltre come dicevamo poco fa defi è in collaborazione con le principali piattaforme di scambio con le quali intende migliorare l'accessibilità e l'innovazione offrendo un'esperienza di trading sicura ed efficiente per tutti ma oltre a questo se osserviamo sempre dal loro sito vediamo che persino dei colossi come spex e tesla si sono uniti in questo viaggio con defi 2.0 verso un futuro brillante del web 3 e non è finita qui perché defi 2.0 è apprezzata anche alcune importanti istituzioni accademiche qui vediamo nomi di rilievo come la university college di londra a ulteriore conferma del grande impegno per l'innovazione e la solidità del progetto poi altro dato importante da non sottovalutare come possiamo vedere da questa news su you have finance ha chiuso un round da un milione di dollari in questo articolo si sottolinea come negli ultimi tre anni il progetto ha risolto moltiplici problemi del settore e ha aumentato la sua base di utenti di oltre 100 volte si risalta anche come l'antivirus di defi è già stato utilizzato per disinescare oltre 540.000 token a rischio ovvero 27 miliardi di dollari potenzialmente salvati e poi come ho detto il progetto è già utilizzato da oltre 3 milioni di utenti tra cui grandi nomi come coingeco arbitrum zikzing e le università di londra e montreal quindi attirando investitori di altro profilo come abbiamo già detto in precedenza andando poi più nello specifico dell'ecosistema defi 2.0 vediamo che è una vasta gamma di prodotti e servizi che soddisfano le esigenze di tutti gli utenti dagli sviluppatori ai trader agli utenti finali abbiamo già parlato del social defi e della dashboard molto innovativi e interessanti ma uno dei punti forti della piattaforma è senza dubbio il defi scanner defi scanner è un programma che analizza gli smart contract per individuare potenziali rischi di sicurezza il programma funziona in pochissimi secondi e fornisce un punteggio di sicurezza un rapporto sulle funzionalità ad alto rischio e informazioni sulla liquidità e sulla distribuzione dei token inoltre defi scanner analizza il wallet degli utenti e gli smart contract con cui interagiscono fornendo valutazioni personali del rischio che consentono agli utenti di revocare facilmente le approvazioni rischiose defi scanner è uno strumento facile da utilizzare che consente agli utenti di valutare la sicurezza degli smart contract prima di interagire con essi per utilizzare lo scanner è sufficiente inserire l'indirizzo del contratto della barra della ricerca e una volta completata la scansione i risultati verranno visualizzati in uno layout chiaro e intuitivo che evidenzia tutti i rischi associati allo smart contract poi i rischi possono variare da problemi minori a gravi vulnerabilità di sicurezza che potrebbero mettere a rischio i fondi degli utenti e utilizzando appunto defi scanner gli utenti possono valutare in modo rapido e conveniente la sicurezza dell'interazione con quello smart contract quindi consentendo loro di prendere decisioni informate e rimanere al sicuro nel mondo decentralizzato quindi è possibile avere un'analisi approfondita relativamente alla sicurezza e la liquidità del token infatti gli sviluppatori possono esaminare la parte esatta dello smart contract che causa una vulnerabilità estendendo la finestra di avviso del problema e visualizzando la parte codificata i risultati poi dell'analisi completa della distribuzione dell'acquidità del token sono disponibili sul lato destro di defi scanner oltre alla funzionalità utilissima dello scanner abbiamo anche defi shield uno strumento di revoca per ethereum shield scansiona automaticamente il tuo wallet alla ricerca di token e approvazione ad alto rischio e quindi in grado di identificare tutti i token e anche smart contract ad alto rischio che l'utente ha nel suo wallet in pochissimi secondi fornendo inoltre una descrizione dettagliata di ciascun rischio questo è veramente eccezionale se tutto questo ancora non vi è bastato per acquistare defi le novità non sono ancora finite infatti defi ha annunciato diverse nuove funzionalità che cambieranno per sempre il mondo della defi queste funzionalità renderanno molto più semplice e sicuro e gratificante per le persone interagire con la defi infatti sarà lanciato defi layer 2 chain sarà la blockchain layer 2 più veloce e sicura alimentata dal primo antivirus per criptolute di cripto questo renderà le transazioni defi più efficienti e affidabili riducendo al contempo i costi poi abbiamo anche defi connect sarà la prossima generazione del loro profilo sociale che porterà a bordo oltre 10 milioni di nuovi utenti questo renderà la defi più accessibile a un pubblico più ampio facilitando la connessione tra utenti e la condivisione di informazioni e opportunità abbiamo anche defi gpt sarà la prima dashboard basata sull'intelligenza artificiale in cripto questo fornirà agli utenti approfondimenti analisi avanzati per aiutarli a prendere decisioni finanziarie più informate queste nuove funzionalità di defi rappresentano una grande passo avanti per la tecnologia e il settore stanno preparando la finanza decentralizzata a diventare una forma di finanza dominante del futuro l'annuncio di queste nuove funzionalità da parte di defi è un forte segnale del potenziale di crescita di questo settore gli investitori che credono nel futuro della defi dovrebbero considerare l'acquisto del token defi che alimenta questo enorme ecosistema web 3 di oltre 10 milioni di utenti attivi dulcis in fundo defi sta anche lanciando una nuova carta di credito che renderà ancora più facile per persone accedere utilizzare la finanza decentralizzata per chiudere il discorso dopo tutte queste caratteristiche e sviluppi che abbiamo visto devo dire che sono molto bullish sul token defi soprattutto per eventuali futuri listing sui maggiori exchange ma anche per tutto quello che stanno costruendo le collaborazioni che stanno stringendo e tutti i servizi che stanno implementando sempre di più per diventare il top del settore bene se sei adesso interessato ad acquistare defi ti faccio anche un piccolo tutorial per farti vedere i vari passaggi per effettuare il tuo acquisto come prima cosa devi accedere tramite il link che trovi qua in descrizione per andare sul loro sito ed essere sicuro di non andare su un sito scam una volta entrato nel loro sito ci compare questa dashboard dove possiamo vedere che attualmente mancano soltanto pochi giorni prima che il prezzo cresca del loro token infatti attualmente il loro prezzo del token è 0,27 centesimi di dollaro e come potete vedere abbiamo la possibilità di poterlo acquistare in due modi o a 0,27 centesimi o a 0,30 centesimi 0,27 centesimi avranno rilasciati in modo giornaliero i nostri token per quattro mesi o se no abbiamo la seconda opzione di acquistarlo a 30 centesimi dove abbiamo un 30 per cento che verrà subito rilasciato appena verrà pubblicato il token sarà rilasciato al pubblico e il 70 per cento rimanente sempre rilasciato linearmente ogni giorno per quattro mesi il passo successivo poi da fare è connettere il nostro wallet metamask tramite il tasto connect wallet first connettiamo il nostro wallet possiamo vedere che c'è una lista di tantissimi wallet troviamo metamask wallet e via dicendo però io utilizzo metamask quindi mi collego con metamask ci compare una pagina dove ci dice che dobbiamo fare il login e autorizzare il nostro wallet per effettuare il nostro acquisto su defi una volta che abbiamo collegato il nostro account metamask possiamo ora scegliere su quale rete acquistare binance marceni o ethereum qui dipende da voi io consiglio ovviamente sempre binance marceni in quanto le fee sono molto minori scegliamo qui poi quale cripto utilizzare per l'acquisto quindi siamo su binance marceni utilizziamo bnb o usdt o usdc in questo caso io c'ho soltanto bnb andiamo poi successivamente a inserire il nostro importo di bnb che vogliamo acquistare in questo caso mettiamo uno premiamo ora buy now ci compare una finestra col repilogo del nostro acquisto diamo ovviamente conferma e tramite metamask andiamo a confermare il nostro acquisto nel caso non abbiamo un wallet metamask possiamo acquistarlo tramite carta di credito quello che semplicemente dobbiamo andare a fare è selezionare la nostra valuta fiat quindi euro selezionare l'importo selezionare buy now qui ci compare la finestra con il repilogo del nostro acquisto ovviamente sarà inconvertito in dollari e il token in price di usdc qui ci sarà ovviamente il repilogo per capire effettivamente i costi di commissione andremo poi nella successiva finestra a inserire il nostro numero di telefono dove riceveremo un codice da andare a inserire inserito il nostro codice che abbiamo ricevuto tramite sms nella schermata successiva andiamo poi ad inserire i nostri dati della nostra carta di credito facciamo continua confermiamo il nostro acquisto una volta confermato riceveremo i nostri token e per andare a vedere i nostri acquisti dei nostri token basta che andiamo a cliccare nel nostro storico delle transazioni come potete vedere qua io avevo già acquistato 100 euro di questo token qua bene ragazzi spero che questo video vi sia tornato utile fatemelo sapere spaccando il tasto del like e iscrivendovi al canale se ancora non l'avete fatto e attivare la campanella notifiche e noi come sempre ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti ciao